Il torneo internazionale di basket giovanile Masaccio si allarga in questo 2018, oltre a coinvolgere squadre di diverse nazioni europee e vede delle gare giocate anche fuori dalla città di Masaccio. Via ufficiale il 28 aprile, anteprima dei giorni precedenti ed occasione per San Giovanni per rinnovare il gemellaggio con Srebrenica. Il torneo internazionale Masaccio si è ulteriormente allargato alle comunità delle Propaggini Valdarnesi con l'adesione del comune di Reggello che ci ha messo a disposizione l'impianto unitamente al comune di Bucine, di San Giovanni e di Castelfranco Pianti Scò. Già questo è un primo motivo di vanto perché più ci allarghiamo e più vuol dire l'evento a risonanza, a importanza. Inoltre da quest'anno ci accompagna noi come CMB Valdarno che organizziamo il torneo e il comune di San Giovanni Valdarno, siamo accompagnati dal Consiglio regionale della Toscana che ci ha offerto il patrocinio e un sostegno economico per la realizzazione della manifestazione. Anche quest'anno, un altro elemento di novità, le nazioni presenti oltre all'Italia sono 5, non più 4, con tutte le conseguenze economiche e di prestigio che questo provoca. E comunque siamo pronti per partire, già il 23 aprile ci sarà una prima partita, una seconda al 27, insomma acceleriamo i tempi perché 84 gare in tre giorni è un programma veramente complesso e compresso. Da 4 giorni io mi auguro davvero di festa nella nostra città in cui avremo anche come è stato nei precedenti due anni la possibilità di nuovo di avere ospiti, la squadra, i bambini di Srebrenica, città gemellata appunto con San Giovanni. Per accoglierli venerdì 27 faremo anche una scena aperta ovviamente a tutta la cittadinanza, una scena di accoglienza e di solidarietà al circolo Arci del Ponte alle Forche, quindi invitiamo anche tutti a partecipare a questa occasione per conoscere anche appunto i bambini della nostra città gemellata e la delegazione del loro comune.